al tavolo, al mese domani. Ora invece la situazione al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Taranto. Continuano le situazioni di disagio al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Numerose le segnalazioni corredate da immagini e foto da parte di pazienti, di parenti di pazienti, degli operatori stessi che testimoniano la totale confusione che regna nel presidio a causa del sovraffollamento. Una sofferenza amplificata, scrive in una nota il consigliere regionale di Sinistra Italiana Liberi Uguali, Mino Borracino, per i cittadini accorsi per le cure e un enorme carico di lavoro per gli operatori sanitari che confermano quello che diciamo esattamente da due anni, da quando c'è nell'estate del 2016, il direttore generale dell'Asra di Taranto, d'accordo con il presidente assessore Michele Emiliano, decisero di chiudere i pronto soccorso del Moscati e del San Marco di Grottaglie. La situazione è insostenibile, ha i limiti dell'indecenza. Pazienti in barella o in sedia a rotelle ammassati nei corridoi e negli ambienti interni al pronto soccorso confermano che così davvero non si può più andare avanti. Chiediamo un atto di coscienza al presidente Michele Emiliano, conclude Mino Borracino, per riaprire questi due pronto soccorso.